Carichi di lavoro aumentati nonostante lo stesso numero di ore previste nel contratto entrato in vigore dopo una nuova gara. E questa è la protesta avanzata dai lavoratori pulitori dei bus e di tutte le pertinenze Chima Amat che si riconoscono nei sindacati Slai Cobas e Cobas Confederazione che hanno tenuto un presidio davanti alla sede dell'azienda partecipata dei trasporti urbani in Via Cesare Battisti. Avevamo chiesto 5 ore con sanificazione extra straordinari. Ci hanno risposto senza nessun aumento reale delle ore i Cobas dicono no alla nuova gara d'appalto così com'è e chiedono all'Amat e al Comune di trattare per risolvere la verdenza. Stanno mettendo i lavoratori con una tagliola sulla testa, è una cosa inaccettabile. Tanto è vero che già stiamo programmando una fortissima iniziativa presso il Comune di Tardo che è il proprietario dell'Amat e dimostreremo che alcuni servizi non si potranno fare. Ci ha aumentato il lavoro, quando il lavoro non doveva essere aumentato perché il quarto d'ora è con due minuti in meno che loro ci hanno dato questo quarto d'ora in più. In più in tre minuti sotto il tunnel di cui vogliono essere puliti i sedili con la spugna, fare cruscotto, pannelli, aspirazione, asciugare il pulma da fuori, tutto in tre minuti. È una cosa non fattibile proprio sia per tutti gli operai.